Posso chiedere quanto sei contento? Molto! È stata una trattativa difficile, però voluta da te. Sì, la verità che è una trattativa difficile, che ha demorato molti giorni, però la verità che, in fin, molto contento di poter vestire questa camisetta e questa malla della Juve, la verità che è molto contento. Hai sentito qualcuno dei tuoi ex compagni, del Piero? Hai voluto fortemente la Juve? Sì, è verità. La verità che è molto contento, perché, diciamo, Conte è il tecnico del Juve, si è referente a me, mi chiede, e, beh, la verità che si è fatto tutto da la miglior forma per poter venire a questa instituzione, e, beh, come ti diciamo, molto contento. Con Scudetto? No, io vengo a portar, ovviamente, a portar Miranito de Arena, è un club che ha molti giocatori, sta facendo una liga molto buona, e, beh, speriamo che ci siamo di questa maniera. Ti chiedo l'ultima cosa, vivrai con del Piero gli ultimi sei mesi alla Juve? No, del Piero è un grande, un grande. Quindi, ho dieci l'ultimo, ho jawato sui con lui un anno, una genius persona, un molto bationico. Ci sono davanti molto contento, felici. Soluti ai dei ai teifri della Juve. Sì, tutti, famonti un grande. grande.